e bella a tutti ragazzi ben ritornati sul mio canale oggi siamo su un altro video degli hater madonna ragazzi sono così tanto sono così tanto contento di portarvi di nuovo alla serie degli hater madonna così tanto allora questo non è il mio video ma è di un altro mio amico marigliano incominciamo subito ritorniamo con l'uomo nero alessio allora l'uomo nero ha sfigato non hai trovato niente giusto ma fai cagare il cazzo alessio scritto sentite l'uomo nero e alessio poi chi vi credete di essere soltanto che insultate pensate di essere qualcosa di migliore invece vi sbagliate voi siete minori voi siete gelosi di quello che facciamo voi siete gelosi perché noi siamo migliori di voi allora voglio che l'uomo nero e alessio facciano un video voglio che facciano un video voglio sentire le loro voci e poi lo commento sotto voglio svedere il loro video voglio vederli l'uomo nero ha sfigato non hai trovato niente e te nella vita che cosa hai trovato che cosa hai trovato stati zitto e muto che meglio casomai puoi mettere non like ma praticamente dire sfigato che non hai trovato niente non è vero ha trovato ma beh siccome non sai niente di videogiochi non sai niente si vede te ne puoi andare te ne puoi andare a casa tua a farti una vita invece di stare qui a commentare male poi abbiamo alessio giusto ma fai cagare il cazzo allora alessio 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 secondo te lui fa cagare il cazzo ok ma te chi ti pensi di essere ti pensi di essere qualcuno migliore beh ti credi migliore va bene va bene per me non c'è problema ma non commentare più non commentare più perché se no se no se no se no ah tu se farai video io te li commenterò male ma non mettendo parolacce ma mettendo sempre in un like e scrivendoti sotto ora faccio io later quindi alessio stati zitto e muto se no se no se no se no se no se no madonna guarda faccio un video tutto per te tutto per te te lo faccio va bene tutto per te con Cristian lo farò il video spero che accetterà e se vuole anche black e anche andrea voglio vedere la faccia che farai dopo che ti farò quel video se non commenti sotto questo video farò il video tutto per te commenta oppure farò il video che ti che dimostrerà a tutti chi sei veramente ok va bene alessio bene e l'ultima cosa ragazzi prima di chiudere il video l'uomo nero e alessio sono la stessa persona sono la stessa persona perché perché l'ho scoperto in un mio video due non like nello stesso momento due insulti nello stesso momento non mi frega nessuno guardate ah ah sfigato non hai trovato niente 5 luglio 5 luglio 5 luglio è lo stesso giorno che ha che ha commentato alessio sono la stessa persona e gli insulterò entrambi o insulterò o insulterò lui se mi spiegherò che lui sarà un suo amico bla 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 cavolate varie e quindi ragazzi se il video vi è piaciuto commentate condividete se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi grazie Grazie a tutti.